salve sono roberto fabbri sono qui con la piccola ci stiamo preparando per le canzoncine di natale è arrivato il natale e allora inizieremo con il brano numero 88 del suoniamo la chitarra che è appunto bianco natal una tradizionale canzone natalizia che si ascolta un po in tutto il mondo questo brano in particolare lo suoneremo insieme ai bassi perciò c'è la melodia e i bassi di conseguenza è già una composizione polifonica ossia a più voci bisogna stare molto attenti a cercare di suonare il basso con il pollice e poi la nota alta a volte con l'indice e a volte col medio questo brano è in tre tempi 1 2 3 la prima nota è una nota da una semi minima col punto cioè da un tempo e mezzo perciò 3 e poi c'è una minima col punto 2 3 questo do resta sempre giù perciò abbiamo un brano a più voci in questo momento è a due voci c'è un basso e c'è una nota e note della melodia questa è la melodia e il basso invece e noi dovremo suonare tutto insieme ok verso la fine abbiamo addirittura tre note insieme perciò pollice indice medio l'ultimo accordo mettiamo tutte le dita dell'accordo di do maggiore e poi una volta posizionate con il pollice lentamente scendiamo dalla quinta corda fino alla prima ok prova ok bravissima molto molto bene proviamo a farlo con la base bravissima bravissima ha finito prima e tu l'hai fatto dopo l'accordo va bene uguale molto 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 bene cari amici vi abbiamo fatto vedere Bianco Natale dal Suoniamo la Chitarra però vi voglio ricordare che esiste anche un'antologia che si intitola Suoniamo la Chitarra a Natale che contiene questo brano ma tanti altri brani natalizi sia in versione melodica perciò semplici e poi gli stessi in versione polifonica come questo però anche chi sta all'inizio può divertirsi a suonare questi brani natalizi e perciò vi invito a cercare Suoniamo la Chitarra a Natale per fare un bel concerto di Natale ai vostri cari un saluto da Roberto e Giulia se volete continuare a seguirci iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanella ciao ciao cari amici sono Roberto Fabri e oggi sono qui con la piccola Giulia siamo pronti perché piccola? da capo ora non dici piccola salve a tutti sono Roberto Fabri e sono qui con la piccola salve sono Roberto Fabri e sono qui con la piccola vai grazie a tutti